Dopo anni in cui ci siamo spese in prima persona come giovani democratici insieme ai consiglieri d'Astechiavoli e al PD per l'attivazione della consulta giovanile, solo a dicembre l'amministrazione comunale ha dato i primi segnali e quanto affermano i giovani dem di Ragusa a proposito infatti dell'attivazione di quello che definiscono uno strumento importante di partecipazione politica per i più giovani, ma si sono dovuti attendere altri 5 anni affinché venisse convocata la prima riunione e questo naturalmente non va bene, proseguono i giovani democratici in quanto la convocazione è avvenuta senza il rispetto e il regolamento alla stessa consulta, infatti la comunicazione è arrivata all'8 maggio per l'indomani, quando invece viene esplicitamente indicato che la notifica debba permeare almeno 10 giorni prima. Ovviamente questa disattenzione rende difficile se non impossibile una partecipazione attenta per i membri dell'organismo, i quali essendo giovani devono sottostare anche ad impegni di natura universitaria fuori città. Questa nuova esperienza è quindi iniziata male, concludono i giovani devono, ma ci auguriamo che possa essere gestita meglio in futuro rispetto all'importante coinvolgimento dei ragazzi nella vita amministrativa di Ragusa.